Venezia-Trento non è solo una partita tra due squadre di basket, è il confronto tra giganti di personalità oltre che di capacità tecnico-atletiche, che sul parquet si traduce in una lotta serrata dove ogni risultato è plausibile frutto della zampata decisiva dell'uno o dell'altro dei contendenti. In gara 2 della semifinale playoff scudetto del basket, come al solito in un tagliercio mestrino strapieno, veneziani e trentini in vantaggio di una gara se le sono date di santa ragione, con i primi che hanno condotto egregiamente la frazione iniziale, avanti anche di 19 lunghezze, una gara che conta pure due espulsi illustri come l'americano Sutton tra gli ospiti e il coach De Raffaele tra i padroni di casa. Nella seconda parte di gara, gli aquilotti di Boscaglia spiccano il volo risalendo lentamente fino almeno 5 al termine del terzo quarto. Il finale poi è tutto da raccontare con Venezia, sublime Eins, 26 punti, che riporta il vantaggio in termini rassicuranti fino al più 11 a 3 minuti dalla fine. Ma Peris e compagni non fanno i conti con la tenacia avversaria, con Haug bravo a far risalire Trento addirittura a meno 2 ad una manciata di secondi dalla sirena. Quando Dey fa 1 su 2 ai liberi, Gutierrez riporta a meno 1 gli ospiti prima del canestro di Cerella per il definitivo 80 a 77. Fine dell'incubo oro-granata, riaperti i giochi e sfida che riparte martedì sera a Trento sull'1-1. Trento dove prende il via la settimana decisiva per definire in nome delle finaliste dello scudetto 2018 del basket. Intanto ha preso il via la serie di sfide dei play-off promozione di Lega 2 con il successo di Alma Trieste contro la De Longhi Treviso di 6 lunghezze. Nord-est comunque vada presente in tutte e due le sfide decisive per la regina d'Italia sotto canestro e per la nuova squadra che nella prossima stagione militerà nel campionato maggiore.